Il direttore sportivo rosso-blu Aniello Martone ha dichiarato La nostra speranza è il sintetico, è fondamentale per il nostro futuro. Noi utilizziamo il puinto solo una volta a settimana per evitare problemi. Non vogliamo peregrinare per la provincia o allenarci lontano dalla città. Col sindaco solo incontro conoscitivo. Per noi lo stadio deve essere motivo d'orgoglio. C'è bisogno di riammodernamento. Con la salvezza acquisita, matematicamente, possiamo iniziare a guardare al futuro, mentre la squadra deve pensare a raggiungere i play-off. Grandi meriti soprattutto a mister tedesco e ai giocatori. Non è stato quantificato nulla per il pinto. Il presidente ha salvato la casertana dal fallimento ed ha fatto più di quello che doveva fare. Ogni giorno arrivano somme da pagare e il presidente sta risolvendo tutte queste situazioni. La piazza deve sapere queste cose. Oggi spendiamo cifre enorme per gli allenamenti. I giovani siamo soddisfatti del loro rendimento, così come di quello di tutti i calciatori, anche quelli più esperti. In casa della Paganese, mentre si prepara la sfida contro l'Ostico Cosenza per cercare di centrare la quarta vittoria consecutiva, i tifosi si godono ancora la storica vittoria di Melfi. Nella Juve Stabia rosa al completo con il rientro di Paponi dalla squalifica per il big match di Foggia, dove si spera in una prova d'orgoglio da parte della squadra.